Sì, è vero che ce l'ho scritto anche Sì, è vero che ce l'avete tirato Ma adesso c'è il momento di brindare tutti insieme Perché saremo anche nazionali popolari A prescindere dal fatto della democrazia non funziona Ma comunque è la festa di compleanno di ognuno di noi stasera Quindi festeggiate E questo momento mi viene a fare il coro Veramente ringraziamenti più grandi E uno, un applauso enorme a Andrea Rorro Proio Che sta lì al mixer e c'è stato 80 date da novembre a ora Quindi grazie Rorro Ha fatto anche 80 altre cose Ma è bene che non lo sapete Vogliamo ringraziare Enrico Avendo lì che è quel pelatone che vedete sempre sul palco Quando sogniamo nei concerti E se non ringraziate siete delle merda Ecco, grazie Perché dovreste ringraziare più loro per noi E anche Lorenzo Buzigoli che non è stasera con noi Alessandro Lera che non è stasera con noi E Icce Orsini che è quel vichingo che vende le magliette laggiù Perché lo fa anche lui da una marea di tempo E non ne vuole più di noi Ah già, è il Merlo, è Stefano Merlini Che non è qua, ma è come fosse qua Ma quanto ci ha rotto il cazzo Questo qui era il momento in cui dovevamo far salire Giorgio Canali Quindi chiamatelo voi Giorgio Divante il concerto questa parte si chiama la parte Un attimo di calma, calma, calma amici Siamo arrivati al punto del concerto che si chiama la parte Il momento dello zio stronzo E quindi noi cerchiamo di chiamarlo zio stronzo Giorgio alza la mano, dove sei? Giorgio Comunque per te informazioni Lo spumante non l'ho comprato da Lidl Ma al bar blu di Pinarella Ecco Queste sono cose che vanno via Il caffè di Pinarella Ragazzi ma dalla gente come noi cosa vi aspettavate? Il Moishandone? Però devi chiedere a Agnelli Non mi rompere i codi da me Nostra Ragazzi ma dai P 의�iyla